Per circa 5.000 famiglie siciliane arriveranno i contributi della Regione per l'affitto grazie al bando emanato dall'assessorato alle infrastrutture. La scadenza per la presentazione delle istanze, fissate inizialmente a fine marzo per via dell'emergenza Covid-19, è stata posticipata il 13 maggio. Stiamo lavorando per assicurare, ha commentato il Presidente della Regione Nello Musumeci, in tutti gli aspetti della vita dei cittadini che hanno visto ridursi le proprie certezze economiche e il massimo sostegno nel fronteggiare la crisi da coronavirus. I fondi a disposizione del bando ammontano a ben 7,5 milioni di euro, spiega l'assessore regionale alle infrastrutture Marco Falcone, e ci consentiranno di destinare ad una platea significativa di siciliani un aiuto economico che varierà da 1.200 euro fino a 1.800 euro. La misura assume particolare rilievo, vista l'emergenza che viviamo, dando ai cittadini un'ulteriore fonte di liquidità per garantire il diritto alla casa e confidiamo, sottolinea l'assessore, nella collaborazione dei comuni sul puntuale reperimento delle istanze. Con l'obiettivo di estendere i contributi anche ai prossimi anni, conclude Falcone, abbiamo chiesto al Governo nazionale di lavorare sul rifinanziamento della propria quota, mentre il Governo musumeci è impegnato a reperire ulteriori risorse. Aiuti all'affitto in arrivo anche dal Comune di Palermo, con lo sblocco di circa 6 milioni di euro. La delibera istituisce l'Agenzia per la Casa, che coordinerà tutti gli interventi. Per gli affitti si andrà da un minimo di 4.800 euro, un massimo di 7.200 euro all'anno, a seconda del numero dei componenti delle famiglie, ma è stato previsto anche un contributo di 2.000 euro per l'aiuto nel pagamento delle utenze.